Auto parcheggiate e doppio senso di marcia, via Libia, strada che da via Sorio porta verso via Montepertica, non è quello che sembra. Inserita in un contesto residenziale, molti la usano come scorciatoia verso il Bassanello per evitare circonvallazioni rotonde. Era una donna che vive fuori Padova, quella che martedì sera ha investito una studentessa di 15 anni che vive qui e portava spasso il suo cane. 20 di sera, buio e forse la velocità. Una strada in cui gli interventi dell'amministrazione per ora sono inesistenti, c'erano i dossi, sono stati tolti. Hanno tolto i dossi, però è trafficata, anche uscire dalla via non è facile. Sì, in certe situazioni sì, anche perché un paio di anni fa, forse tre anni fa, un bambino al tennis club, un bambino è stato proprio... Stava andando ad allenarsi il cover tennis ed è stato investito e ucciso a pochi metri da dove è avvenuto il grave incidente di martedì sera. Una situazione conosciuta questa di via Libia, per ora la giunta che guida la città non ha preso alcun provvedimento. Sono 1.400 gli incidenti stradali che avvengono ogni anno a Padova. Le vie più pericolose sono via Gattamelata, via Chiesa Nuova, via Facciolati, dissuosori e telecamere sono fondamentali per la prevenzione. Vigili voi ne vedete qui? Sì, no, no, assolutamente no, dimenticata, è un po' sì, tutta la zona mi pare.